Sindaco, lei a Varese con quello che è un po' il campo largo ha vinto per due volte le amministrative, battendo anche la Lega. Sembrerebbe che il Partito Democratico in questo momento di scala del centrodestra non voglia seguire quella strada ma voglia calare un candidato di bandiera e quindi probabilmente è una sconfitta certa. Lei cosa suggerisce al suo partito che vuol prendere quella direzione in maniera quasi ostinata a questo punto? Io insieme agli altri sindaci che hanno sottoscritto questo documento chiediamo di applicare lo stesso metodo che viene applicato in tante città, non solo Lombarde ma dell'intero paese e che vedono le forze progressiste amministrare bene alcuni territori. Quindi la ricetta è molto semplice, in questo contesto davanti alle chiare, chiarissime difficoltà della destra e della Lega Lombarda dobbiamo necessariamente proporre un'alternativa credibile e soprattutto vincente. Che può essere anche la Moratti? Che deve essere il candidato che esce dal tavolo di tutti i soggetti che ci stanno a vincere le elezioni.